Pinocchio arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata. Pinocchio, animato dalla speranza di arrivare in tempo e dare aiuto al suo povero babbo, nuotò tutta quanta la notte. E che orribile nottata fu quella! Diluviò, ingraddinò, tuonò spaventosamente con certi lampi che pareva di giorno. Sul falder mattino gli riuscì di vedere poco distante una lunga striscia di terra. Era un'isola in mezzo al mare. Allora fece di tutto per arrivare a quella spiaggia, ma inutilmente. Le onde ricorrendosi e accavallandosi se lo sbattevano fra di loro come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia. Alla fine, e per sua buona fortuna, venne un'ondata tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sull'arena del Lido. Il colpo fu così forte che battendo in terra li crocchiarono tutte le costole e tutte le congiunture, ma si consolò subito col dire «Anche per questa volta l'ho proprio scampata bella». Intanto, a poco a poco, il cielo si rasserenò. Il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come un oio. Allora il burattino distese i suoi panni al sole per rasciugarli e si pose a guardare di qua e di là, se per caso avesse potuto scorgere su quella immensa spianata d'acqua, una piccola barchetta con un omino dentro. Ma dopo aver guardato bene bene, non vide altro dinanzi a sé che il cielo, mare e qualche vela di bastesimo, ma così lontana che pareva una mosca. «Sapessi almeno come si chiama quest'isola», andava dicendo. «Sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di Garbo, voglio dire da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzini ai rami degli alberi». Ma a chi mai posso domandarlo? A chi, se non c'è nessuno? Quest'idea di trovarsi solo, solo, solo in mezzo a quel gran paese disabitato gli mise addosso tanta malinconia che stava lì per piangere. Quando tutta un tratto vide passare a poco distanza dalla riva un grosso pesce che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi con tutta la testa fuori dall'acqua. Non sapendo come chiamarlo per nome, il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire. «Ehi, signor pesce! Che mi permetterebbe una parola?» «Anche due», rispose il pesce, il quale era un delfino così garbato come se ne trovano pochi in tutti i mari del mondo. «Mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo di essere mangiati?» «Ve ne sono sicuro», rispose il delfino. «Anzi, ne troverai uno poco lontano da qui». «E che strada si fa per andarvi?» «Devi prendere quella viottola là, a Mancina, e camminare sempre di diritto al naso, non puoi sbagliare». «Mi dica un'altra cosa, lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare, non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mio babbo?» «E chi è il tuo babbo?» «Egli è il babbo più buono del mondo, come io sono il figlio più cattivo che si possa dare». «Con la burrasca che ha fatto questa notte», rispose il delfino, «la barchettina sarà andata sott'acqua. E il mio babbo?» «A quest'ora l'avrà inghiottito il terribile pescecane che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione nelle nostre acque». «Che grosso di molto questo pescecane!» domandò Pinocchio che di già cominciava a tremare dalla paura. «Se gli è grosso», replicò al delfino. «Perché tu possa fartene un'idea, ti dirò che è il più grosso di un casamento di cinque piani e da una boccaccia così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa». «Mamma mia!» gridò spaventato il burattino e rivestitosi in fretta e furia si voltò al delfino e gli disse «A rivederla signor pesce, scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza». Detto ciò, prese subito la viottola e cominciò a camminare di un passo svelto, tanto svelto che pareva quasi che corresse. E ogni più piccolo rumore che sentiva si voltava subito a guardare indietro, per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pesce cane grosso come una casa di cinque piani e con un treno della strada ferrata in bocca. Dopo mezz'ora di strada arrivò in un piccolo paese detto «il paese delle api industriose». Le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le loro faccende. Tutti lavoravano, tutti avevano qualche cosa da fare. Non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo con l'omicino. «Ho capito», disse subito quello svogliato di Pinocchio. «Questo paese non è fatto per me, io non sono nato per lavorare». Intanto la fame lo tormentava perché erano ormai passate 24 ore che non aveva mangiato più nulla, nemmeno una pietanza di vecce. Che fare? Non gli restavano che due modi per potersi disguinare, o chiedere un po' di lavoro o chiedere un'elemosina in un soldo o un boccone di pane. A chiedere l'elemosina si vergognava perché il suo babbo gli aveva predicato sempre che l'elemosina non hanno diritto di chiederla solamente ai vecchi e gli infermi. I veri poveri in questo mondo, meritevoli di assistenza e di compassione, non sono altro che quelli che per ragioni d'età o di malattia si trovavano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani. Tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare e se non lavorano e patiscono la fame, tanto peggio per loro. In quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato, il quale da sé solo tirava con gran fatica due carretti carichi di carbone. Pinocchio, giudicandolo dalla fisionomia per un buon uomo, gli si accostò e abbassando gli occhi dalla vergogna gli disse sottovoce Mi fareste la carità di darmi un soldo perché mi sento morire di fame? Non un soldo solo, rispose il carbonaio, ma te ne do quattro, a patto che tu mi aiuta a tirare fino a casa questi due carretti di carbone. Mi meraviglio, rispose il burattino quasi offeso. Per vostra regola io non ho mai fatto il somaro, io non ho mai tirato il carretto. Meglio per te, rispose il carbonaio. Allora ragazzo mio, se ti senti davvero morire di dalla fame, mangia due belle fette della tua superbia e bada di non prendere un'indigestione. Dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un corbello di calcina. Fareste galantuomo la carità di un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito? Volentieri, vieni con me a portare calcina, rispose il muratore. E invece di un soldo te ne darò cinque. Ma la calcina è pesa, replicò Pinocchio, e io non voglio durare fatica. Se non vuoi durare fatica, allora ragazzo mio divertiti a sbadigliare e buon protifaccia. In men di mezz'ora passarono altre venti persone e a tutte Pinocchio chiesi un po' di lemosina, ma tutte gli risposero. Non ti vergogni, invece di fare il bighellone per la strada, va piuttosto a cercarti un lavoro e impara a guadagnarti il pane. Finalmente passò una buona donnina che portava due brocche d'acqua. Vi contentate, buona donna, che io bevo una sorsata d'acqua alla vostra brocca? Disse Pinocchio che bruciava dall'arsione della sete. Bevi pure, ragazzo mio, disse la donnina, posando le due brocche in terra. Quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna, borbottò a mezza voce asciugandosi la bocca. La sete me la sollevata, così mi potessi levar la fame. La buona donnina, sentendo queste parole, soggiunse subito. Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua, ti darò un bel pezzo di pane. Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no. E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto, soggiunse la buona donna. Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no. E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio. Alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria, Pinocchio non sepe più resistere. Fatto un animo risoluto, disse pazienza, vi porterò la brocca fino a casa. La brocca era molto pesa e il burattino, non avendo forza di portarla con le mani, si rassegnò a portarla in capo. Arrivati a casa, la buona donnina fece sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane, il cavolfiore condito e il confetto. Pinocchio non mangiò ma diluviò. Il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da cinque mesi. Calmati a poco a poco i morsi e rabbiosi della fame, allora alzò il capo per ringraziare la sua benefatrice, ma non aveva ancora finito di fissarla in volto che cacciò un lunghissimo... Oh! Di meraviglia rimase là incantato con gli occhi spalancati, con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane di cavolfiore. Che cos'è mai tutta questa meraviglia? Disse ridendo la buona donna. Egli è, rispose balbettando Pinocchio, egli è, egli è, che voi somigliate, voi, voi mi rammentate, sì 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 sì, la stessa voce, gli stessi occhi, gli stessi capelli, sì 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 sì, anche voi avete i capelli turchini, come lei, oh fatina mia, oh fatina mia, ditemi se siete voi, proprio voi non mi fate più piangere, se sapeste ho pianto tanto, pianto tanto! E nel dir così, Pinocchio piangeva dirottamente e gettandosi i ginocchi per terra, abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa.